magico ciao a tutti ragazzi io sono sempre magicolo e bentornati su quake 1 la seconda serie che ho fatto di quake 1 e andiamo a vedere il secondo livello ho deciso di continuare la serie perché ho avuto dei feedback positivi allora sono contento di questo sono molto contento ho anche aggiustato un po regolato alcune cosette che spero di rendervi diciamo il video più piacevole ai vostri occhi visto che mi accusate che i miei video non sono piacevoli non sono fatti bene non sono di qualità adatta ad un livello del mio canale a un canale del mio livello ho deciso di cambiare le cose e adesso fare le cose in modo serio e fatto bene solamente però con quake 1 visto che è un gioco da veramente da far vedere a tutti a tutta la famiglia a tutti a tutti a tutti allora continuiamo un po andiamo a vedere siamo arrivati quindi al secondo livello ci sono ancora questi mostri che vogliono uccidermi purtroppo non so i nomi non me li ricordo proprio però oh cazzo mi hanno beccato però questi qui lanciano delle bombe che uccidono bisogna veramente stare attenti stare molto ma molto attenti non si può ovviamente farsi scappare nulla soprattutto se si gioca in modalità al massimo ma io adesso non sono al massimo anzi sono alla modalità media intermedia che non mi occupa più di tanto ecco stavo dicendo che non mi dava così tanto fastidio quindi mi potevo concentrare meno sul gameplay e più su quello che dico però anche 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 il gameplay resta comunque valido e interessante adesso mi devo anche ricordare tutti i segreti alcun segreto era qui quindi abbiamo abbiamo aperto il segreto adesso qui c'è un segreto mi ricordo ok perfetto andiamo avanti poi il secondo segreto anzi ormai siamo arrivati al numero diciamo 1 su 3 ok allora prendiamo questo e questo dovrebbe essere il 3 no ancora 1 su 3 eccolo qua il secondo l'abbiamo trovato ah qui c'era un mostro ma siccome sono in modalità normale attenzione stiamo attenti stiamo attenti perché qua si rischia ok i mostri li dovrebbero aver finiti quasi tutti prendiamo il super damage e uccidiamo ah 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 quad damage adesso se riesco faccio una cosa che mi imparerebbe no ce l'avevo quasi fatta mannaggia dovevo salire su quel cubo lì e invece niente oh oh mostro 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 siamo 3 su 3 abbiamo già finito il livello ragazzi velocità veramente veloce molto veloce abbiamo finito il quad damage e possiamo andare avanti voglio uccidere tutti i mostri ovviamente non me ne voglio questi cavalieri qua devono morire attenzione 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 oddio e muori oh oh sei morto ok abbiamo uccisi tutti skill 1 secret 3 su 3 perfetto abbiamo finito il livello ovviamente perfetto abbiamo tutte queste armi no qua non ce l'abbiamo però fa niente andiamo avanti al terzo livello e niente però oggi almeno per il momento ci fermiamo qui e ci vediamo al prossimo video con magicolo per il terzo livello ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti